sta giocando la mamma col cucciolo vediamo non so per me la mamma ci siamo persi il pezzo più bello stavano giocando il cucciolo e la mamma niente ha finito vediamo si fa che questa è la mamma il piccolo dov'è adesso sott'acqua eccolo lì che è sbucato fuori dalla mamma però stavolta la mamma non ci sta giocando ci ha fregato quando viene spento il telefono il video hanno giocato adesso che abbiamo acceso avrà detto di lasciarlo in pace siamo lì in pace ciao